Bella raga, siamo i nuovi di The Mountain Bike Adventure Oggi siamo qui a Schegnano, Siavello Perché? Perché oggi è 17 settembre Primo giorno di allenamento per me Per questo lungo inverno Sarà un lungo inverno Dove dovrò allenarmi molto Perché Ci... Non vi spoiler nulla Però voglio fare delle cose nella nuova stagione Che richiedono molto tempo Più che altro sono delle gare Particolari Quindi insomma Parte col dire che Secondo me va bene iniziare Ad allenarsi al settembre Perché ci vuole tanto Tanto allenamento Ho detto questo Qua è il miglior posto per allenarsi Che è Javello Oggi sono qua Sono partito a Prato che veramente Diluviava Fino a Poi sotto il barone L'ho presa tutta l'acqua Quindi Sono abbastanza bagnato Poi dopo ho smesso Fortunatamente I tre che saranno messi Pietosamente Specialmente il 12 Non voglio sapere come Sarà messo Comunque Sì insomma E Oggi andrò a fare un girettino Abbastanza tranquillo 600-700 di dislivello Pedalati Anche perché Emile Non c'ho voglia Da te domani torno qui Quindi insomma Un girettino tranquillo Per iniziare L'allenamento Che Da ora Quindi metà settembre Fino a ottobre Sarà incentrato Prevalentemente Sull'andare forte In discesa E macinare tanto 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 In discesa Poi da ottobre Inizia insomma La vera sessione D'allenamento Invernale In concomitanza Alla palestra Inizierò a fare Un millino Tutto pedalato Per poi a novembre Aumentare E passare A i 1500 1500 di dislivello E Insomma Questo Quindi Ora Faccio Ball pie Signori E poi Insomma Oggi faccio Facciamo Piastrone 10 Vediamo se Fare Paline Dopodiché Faremo 12 Integrale E Monteferrato Di H Quindi Trail Prevalentemente Spaccati Interessati A mettere Il Avrò un po' Paura Del paline Perché Ha messo Male E Niente Dai Noi ci vediamo In cima Perfetto Signori Siamo sul piastrone Abbiamo recuperato Anche Martelli Gran gasato Oggi Martelli È abbastanza Non tranquillo Ma Fresco Perché è partito Da Volpaia Il signorino E Io ho fatto Una spola di riscaldamento Non l'ho registrato Perché Diciamo Non è Nel momento Di oggi L'ho fatto Proprio per aspettare Lui E Per Scaldarmi Un po' E Niente Ragazzi Oggi Facciamo Piazzastrone 10 12 E DH 4 trail Cazzo Ho fatto 4 trail Piastrone 10 Li spingo Insieme Spingerò Tutti i trail Oggi Quindi E Niente Let's go Piastrone Certo Cerco Di spingerli Pronto Per avere Il passo Giusto Oddio Non mi perdi Il controllo Di spingerli Ok, adesso non è messo nemmeno bene qui è distrutto non è messo nemmeno non è messo nemmeno non è messo nemmeno madonna madonna allora guidavo bene guidavo bene però tanti tanti giolli veramente tanti tanti giolli ragazzi mamma mia sia sul piastrone che sul 10 non è messo nemmeno 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 Sì 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 Tak Sì 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 Di nuovo agibile Non conviene vendere l'affaro Sto guidando anche senza maschera Oddio Mamma Aspetta Mi fa una cosa Perché tanto qui so che va a finire Ok Madonna Madonna si è messo male Mamma mia Mamma mia Ok allora ragazzi Per oggi è tutto Oggi siamo tornati ad allenarci Finalmente Con un allenamento Serio Oggi abbiamo fatto 700 di dislivello Tutto pedalato Vabbè 700 di dislivello Tutto pedalato Abbiamo dato un gran gas Sul 10 E sul piastrone Sono contento anche io Come ho fatto il 12 Il DH Il DH peccato perché Peccato veramente più che altro per Oh Guarda te Sti rami di merda Dicevo Il DH peccato per Per gli alberi Perché stavo avendo anche Un bel passo Una bella velocità Però vabbè Non ci si può far nulla Stavate attenti Nel caso E niente dai Ora Non si torna a casina Ci si riposa Domani si torna Ora vedo se faccio anche un video Non lo so E niente dai Come primo allenamento Ci sta Sono contento Il gas c'era Ok E niente raga dai Noi ci vediamo Ad un prossimo video Bye Ciao